Per quanto mi riguarda, naturalmente con Riccardo ho concordato di ragionare un attimo della possibilità di creare anche in Abruzzo una filiera del credito, forse è meglio che anche la prima filiera del credito perché abbiamo già potuto sperimentare che alcune azioni che la finanziaria regionale sta portando avanti sono anche innovative per altre regioni e si spera che diventino anche dei modelli. Lo dico perché l'ultimo riconoscimento ottenuto il 14 giugno a Milano nella sede della finanza italiana, tra l'altro nella sede storica del Banco Popolare di Milano, ci ha visto essere identificati come la Banca Verde d'Italia in un premio nazionale dove abbiamo raccolto il testimone, quindi l'eredità del Banco Intesa San Paolo che era vincitore lo scorso anno, quindi essere identificati come Banca Verde d'Italia quando noi non siamo banca per il modello che abbiamo cercato di creare, che coinvolge un'intera regione, che cerca di orientare, penso questo sia un po' il nostro compito, di orientare una comunità di cittadini e di orientare anche le istituzioni e la politica a guardare al tema della sostenibilità, che giustamente ha detto Angio, sociale, ambientale ed economica, questa cosa ci onora ma soprattutto ci fa capire che siamo sulla strada giusta e sulla quale dobbiamo continuare. Filiera del credito, oggi siamo in un periodo in cui, inutile, io non farò la storia del credit crunch perché chiaramente ho imprenditori davanti, ho avuto rappresentanti di imprenditori che mi hanno prima preceduto, ma sappiamo che in questo momento il problema del credito, dell'accesso al credito, è il problema più pressante che ha la nostra economia. Possiamo fare tutti i progetti del mondo ma se non abbiamo la liquidità per attuarli diventerà difficilissimo che questi progetti si trasformino da progetti in azioni realizzabili e in questa fase purtroppo il credito viaggia su linee completamente separate, vuoi perché ci sono delle normative tra l'altro che si aggraveranno ancora di più, vedi Basilea 3, vuoi perché comunque la sofferenza che hanno oggi le imprese si riversa in parte, io non difendo le banche però comunque la sofferenza si riversa alla fine anche sul sistema creditizio, naturalmente diventa questo il problema principale perché appunto abbiamo un sistema anche scoordinato che spesso non dialoga. Allora la finanziaria regionale oggi può essere il cuscinetto tra il mondo imprenditoriale, il mondo creditizio e anche il mondo istituzionale. Noi dobbiamo ritenere, se me lo consenti Angelo lancio anche una provocazione, noi parliamo sempre di acqua bene pubblico, di ambiente bene pubblico, oggi l'accesso al credito è un bene pubblico perché riguarda trasversalmente tutti, non riguarda gli imprenditori perché è vero che oggi una volta si suicidavano coloro che non trovavano lavoro e oggi invece si suicidano direttamente gli imprenditori, scusatemi se purtroppo la dico in maniera sarcastica su una cosa che è letteralmente drammatica, ma è proprio questo il problema, cioè è trasversale, non riguarda più solo l'imprenditore, diciamo allora si sta suicidando l'imprenditore, forse i sindacati che diventano gli operai non se ne devono occupare, no è proprio l'esatto contrario, oggi l'accesso al credito è un bene pubblico perché riguarda esattamente tutti, l'imprenditore che non riesce ad andare avanti significa che licenzierà, colui che licenzierà significa che non consuma, significa quindi che si sta veramente arenando tutti, quindi la mia provocazione è da oggi considerare l'accesso al credito un bene pubblico e per questo dobbiamo lavorare tutti per smuovere questa situazione. Ci stiamo provando, qual è il nostro ruolo? Noi abbiamo sempre esercitato un ruolo in passato di soggetto che gestiva le leggi agevolative, metteva a disposizione una serie di finanziamenti per le famiglie e le imprese e oggi dobbiamo fare di più, dobbiamo essere quel meccanismo che va a garantire e controgarantire non l'impresa ma l'intero monto creditizio, proprio perché dentro la nostra struttura noi abbiamo anche l'istituzione al 51%. Significa quindi pensare a una situazione del credito in Abruzzo formata ad esempio dai confidi, dalle banche e dalla finanziaria regionale che può essere un po' la cinghia di trasmissione per rimettere in moto l'economia. Come lo facciamo? I fondi sono pochi, sicuramente anche questo è inutile nascondercelo, però per esempio noi abbiamo attuato oggi, e qui mi riallaccio a quell'introduzione che aveva fatto Riccardo, un discorso che sicuramente noi siamo la finanziaria di una delle regioni più piccole comunque d'Italia, con un milione di abitanti, quindi pensare che possiamo avere chissà quale soluzione diventa difficile. Allora ci siamo coordinati, e qui il sistema di fare rete anche addirittura fuori regione, non è detto che le reti debbano essere solo ed esclusivamente regionali, tant'è che i poli, le reti prevedono comunque la partecipazione, l'apertura a situazioni extraregionali. Noi ci siamo collegati per esempio con altre finanziarie regionali, in questo caso ci siamo collegati con le finanziarie a capitale misto pubblico privato, come la nostra, ma come la nostra stiamo ragionando della Toscana, stiamo ragionando della finanziaria del Veneto, stiamo ragionando della finanziaria del Lazio, e quindi già comprendete insieme alla finanziaria dell'Umbria, che forse è l'unica che è un pochino piccola come la nostra, di cui noi forse siamo l'anello debole, ma intanto siamo l'anello, intanto siamo l'anello di questa catena. E ritengo anche che insieme a loro, per esempio, abbiamo elaborato una nostra proposta al Ministero dello Sgruppo Economico, con il quale chiediamo ad esempio che un plafond di quello che è il Fondo Centrale di Garanzia possa essere messo a disposizione delle finanziarie regionali, proprio per quel ragionamento di cui facevo prima, cioè di andare a metterlo a garanzia del mondo dell'impresa, perché poi non sono i confidi, in realtà qualcuno a volte pensa ai confidi come il destinatario finale, no, i confidi sono un intermediario, l'oggetto finale deve essere l'impresa, e quindi poi dall'impresa il cittadino. Allora, se questa proposta, per esempio, che noi mai avremmo potuto elaborare da soli, proporci al Ministero e dire, scusate, riservate un plafond alla finanziaria regionale dell'Abruzzo, però un plafond invece è un sistema di finanziare, in cui comunque c'è la garanzia anche del pubblico, perché non abbiamo solo le banche dentro, e quindi anche la finanziaria del pubblico della regione, ma anche la finanziaria allo stesso tempo delle banche, cioè la garanzia delle banche, questa cosa probabilmente oggi ha aperto una discussione, e se ne sta parlando per vedere se questa può essere una soluzione, una soluzione che deve servire a sbloccare questa visione del nostro paese lento, perché questa è sinceramente la sensazione che io ho, noi abbiamo un paese lento, ogni cosa che noi decidiamo oggi, ci mettiamo per i tempi che oggi richiede l'economia, il mondo, la crisi, tutto quello che vogliamo, abbiamo una visione troppo lenta delle cose, basti pensare al problema dei pagamenti della pubblica amministrazione, che sappiamo ormai se ne parla, se ne parla, se ne parla, però se ne parla e non si agisce, o quantomeno si mettono in atto le misure, che non si sa quando arriveranno, le imprese continuano a non riscuotere, a dispetto di una media di 180 giorni, ma stiamo per essere ottimisti, proprio di qualcosa, veramente di, con gli ultimi provvedimenti, parliamo di 180 giorni di media, perché prima erano anni, ci confrontiamo con i 36 giorni di media di pagamento delle pubbliche amministrazioni tedesche, e poi ci meravigliamo se non reggiamo il ritmo degli altri. Noi dobbiamo sbloccare la visione di un paese lento, dobbiamo sbloccare la visione di un paese lento, su queste tematiche, ma io credo un po' su tutte le tematiche. Ritengo che oggi, per esempio, la legge sui confidi della Regione Abruzzo sia stato un osare in questi termini, perché praticamente abbiamo osato smuovere una situazione consolidata, fatta di tante piccole, io non dico poteri come spesso usa il termine, il nostro assessore, probabilmente ha ragione, però sicuramente tante piccole esigenze, e noi oggi non abbiamo più la possibilità di stare a contemplare le piccole esigenze di ognuno. Riccardo Minina diceva che piccolo non è più bello, per la realtà nostra abruzzese è piccolo e ancora bello se si mette insieme. Questo è il ragionamento, e ce l'hanno dimostrato chi è intervenuto prima. Piccolo è ancora bello, non è che non è bello, piccolo è ancora bello, ma se si mette insieme. E allora questo vale un po' per tutto. I confidi non possono pensare oggi di essere ancora belli, bravi e buoni se restano isolati, così come sono nella loro piccola dimensione. Se si mettono insieme, così come indica la legge, forse avremo degli confidi strutturati che non garantiscono più se stessi, ma creano un meccanismo per finalmente garantire il sistema delle imprese, perché quello, ripeto, è l'oggetto. Noi abbiamo elaborato un bando per la regione Abruzzo, la 1-2-4, della portfers della linea 1-2-4, che va in questa direzione. Io lo ringrazio, qui ci sono anche coloro che hanno lavorato a questo bando, che è un bando, consentitemelo, innovativo, perché vede la possibilità di essere finanziati dai confidi solo se ti metti insieme, cioè solo se veramente sei un sistema che può garantire le imprese e far star tranquille, tra virgolette, le banche. Però, qual è l'innovazione? Anche noi abbiamo lavorato come i precedenti, hanno dimostrato i precedenti relatori. Cioè abbiamo sicuramente cercato di mettere insieme tutte le energie per la prima volta, prima che il bando uscisse, sono stati contemplati gli interessi di tutti gli stakeholders, perfino di quei confidi piccoli che, tra virgolette, rifiutano quasi di lasciare la loro originalità. Le abbiamo contemplati tutti, facendoli, ascoltandoli, cercando di riportare nel bando tutto quello che era possibile naturalmente nel rispetto delle normative europee. E quindi, per esempio, siamo riusciti non solo ad avere un bando che va incontro ai confidi che rispecchiano la legge, quindi quelli che rispettano i parametri, ma siamo riusciti a mettere per esempio all'interno anche coloro che progettano di diventare più grandi. quindi non vogliamo fermare o limitarci solo ad alcuni, ma coloro che ci presentano un progetto di aggregazione potranno accedere a questi fondi, naturalmente con l'impegno che poi la realizzazione avvenga davvero, pur fino arrivando a dargli perfino un'anticipazione per poi arrivare alla stessa quota che diamo agli altri che si sono già aggregati nel momento in cui si sono aggregati. Questo comporterà 15 milioni di euro sul territorio e quindi significa che 15 milioni di euro con un fattore di moltiplicazione almeno di 1 a 20 arriveranno ad essere 300 milioni di euro per le imprese abruzzesi a garanzia delle loro necessità e anche nelle necessità siamo andati avanti e siamo stati innovativi. Pur rispettando i limiti e i parametri imposti dalla comunità europea per esempio abbiamo previsto anche le azioni di capitalizzazione perché purtroppo il bando è per l'innovazione. Si diceva prima sì sono necessarie innovazioni ma consentitemelo io voglio trovare l'impresa che oggi mi dice sì io mi spendo innovazione con la crisi che c'è chiaramente diventa difficilissimo allora abbiamo cercato di contemplare pure questa esigenza per opere di capitalizzazione e anche abbiamo previsto per esempio la possibilità di attingere a questa garanzia se ristrutturi il tuo debito a breve lo trasformi in medio e lungo termine ma se all'interno presenti anche un progetto di innovazione quindi comunque abbiamo allargato le maglie abbiamo interpretato abbiamo innovato credo che questi siano dei risultati importanti la finanziaria regionale si propone questo oggi di essere il punto di riferimento il focal point dell'intera filiera del credito perché tanto l'avete detto prima non si può parlare di ambiente senza il sociale non si può parlare del sociale senza l'economia allora oggi noi non ci possiamo più isolare ed essere quelli che gestiscono solo alcuni finanziamenti non solo abbiamo il diritto dovere di porci sul mercato come una qualunque società e quindi dobbiamo correre per ogni finanziamento per ogni iniziativa ma vogliamo fare di più essere il punto di riferimento visto che mettiamo insieme Regione e le maggiori banche del territorio per ogni altra iniziativa vedi ad esempio i poli di innovazione dove noi stiamo lavorando anche per aggregare per esempio per alcuni poli di innovazione dove riteniamo vedi l'energia essendo stati giudicati e riconosciuti la Banca Verde d'Italia non d'Abruzzo d'Italia quindi riteniamo di poter dire la nostra nel punto di vista finanziario all'interno di un discorso più ampio come un polo dell'energia credo che questo sia più che sufficiente per rendere l'idea di quello che stiamo facendo ma credo che ci saranno anche altre occasioni per poterle esplicare meglio grazie a tutti